Una delle componenti fondamentali del massaggio ayurvedico, poi lo vedremo domani, è l'uso dell'olio. L'olio in ayurveda è come una pomata liquida, cioè in realtà nutre il corpo, lo riequilibra, molto spesso quando si usano degli oli specifici, addirittura medicati nel massaggio ayurvedico, lo cura. Il principio della ayurveda è che non si può mettere sulla pelle un olio che non si possa anche bere, perché attraverso la pelle comunque entra in circolo. Quindi non usate, mi raccomando, oli a base di parafine, oli con tanti ingredienti dentro, cioè la base è sempre un olio vegetale, olio di sesamo, olio di cocco, che non sia l'olio baby johnson, che è petrolio col profumino da bambino, che non sia un olio industriale, come spesso accade. Grazie a tutti.